we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video c'è barba che mette in paglio 500 bits per questa vittoria ragazzi vi ricordo che siamo nella modalità dalle stalle alle stelle il metodo di gioco è che ogni forziere ha dentro delle armi bianche per forza l'unico modo per fare l'upgrade alle armi è quello di killare la gente molly molly di nuovo punto subito ai forzieri sulle gru vediamo se funziona non ci sono forzieri ma vabbè quanta gente c'è a molly ci muoio è probabilmente e dai bravi devo capire un attimo se quelli hanno sparato perché mi hanno visto probabilmente o perché volevo sparare proprio a me se mille bits vinco solo con armi viola va bene sire ma faccio vedere io l'arma viola 500 per la vittoria più mille se la vittoria venisse fatta solo con armi viola aia non puoi fermare devi prendere le armi allora quelli non sono snappi sarebbero già venuti a spararmi ok ragazzi la ragioniamo c'è un modo per vincerla con armi viola ma è un modo anche difficile allora sicuramente si tengono solo due armi e serve un pump posso farcela mi serve un pump e molly c'era troppa gente dentro molly non si può potenziare l'unico modo per potenziare le armi è quello di killare gente c'è un modo solo per avere delle armi viola fare quattro chi con la stessa arma e quest'arma deve essere il pompa del nonno perché poi diventa uno spaz il problema è che le armi viola è difficilissima come sfida ragazzi ok il pompa ce l'abbiamo buona il problema è che devi gettare le armi prima di killarlo ed è un casino io tornerei quasi quasi a molly pensa a te molly è in safe torniamo a molly mille mazzo ti devono bastare mille mazzo se non ammazzi con mille mazzo c'è un problema ma lol e ha ragione ha ragione ok grazie mille bisogna buttarli giù e poi finirli con il pump secondo me a molly c'è ancora gente ieri ma ieri ieri me sophisticated ieri ieri le e Armi viola Porco c***o la vado a vincere Con calma ragazzi Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Ok Ok Vai ragazzi Vai ragazzi Vai ragazzi Andiamo Ci sono Non pensare ai bits 5.000 dal tradis Non ci credo valgono veramente solo le viola E ho un'arma oro Andiamo Non ho veramente parole Cioè dovevano essere per forza viola Cioè dai facciamo i seri Voi avete detto viola Perché avrei dovuto fare 4 kill Niente fate i bravi Fate i bravi Voi ne ho fatte 5 Non va bene perché è oro Andiamo fate i bravi Ma è una str***ata T'hanno detto viola perché non pensavano che facessi 4 kill Comunque ok Vabbè Va bene non va bene Ok L'ultima kill la farò con lo scar viola L'ultima kill la faccio con lo scar viola Non è un problema Cioè un po' è un problema Però ok Ce la mettiamo tutto ugualmente La challenge era vincere con armi viola Vinceremo con le armi viola Non è un problema Bisogna prendere l'arma viola Quello che killiamo Prima di chiudere l'ultimo Se la chiudiamo Non avevo pensato al possibile upgrade leggendario Siamo dentro in 6 3 team Ok si stanno fightando là in fondo Dobbiamo farcela 2 team What? 4v1 Ho perso Non la vincerò mai L'unica cosa che posso fare No è persa L'unica cosa che posso fare È aspettarli in safe E vedere se si riesce a laserare qualcuno fuori È molto È impossibile da vincere Non è molto difficile È veramente impossibile 1v4 La vedo veramente male Eh sì Però è un solo v squad Il problema è che è l'ultima squad Potrebbero essere forti Potrebbero essere 4 pipponi Sto cercando di capire dove sono E se trovassimo un cieco intanto Sto pensando cosa fare Sto pensando cosa fare Ma non ho tante idee È inutile mettermi sul reattore Se no non c'è Ecco raga Serve a niente Vediamo se nel palazzo in fondo Si trova un cecchino Non mi viene in mente niente Porca miseria Ho paura che anche Se volassi Stanno sparando Non si capisce a che cosa Ne ho visto uno Credo Perché deve finire 4v1 Perché deve finire 4v1 Pensa a una soluzione Pensa a una soluzione Non ho in mente niente raga Non ho in mente niente 1v2 Vediamo se arriva Pompaviola Via lo scar 1v1 Si chiude con lo spaz Punto Dov'è? Si chiude con lo spaz Let's go! Let's go! Cinco c***o! Cinco c***o! Adiamo! D'ahayé! Woo!